In questo numero, depressione postparto, tutte le emozioni della maternità in un festival, cure secondo il DNA, una bussola per orientare i medici. E ancora, addio alla cataratta e ai difetti della vista con una sola operazione. Lo studio, il 50% dei malati di tumore è malnutrito già alla prima visita. A Roma, il summit degli esperti sulla priorità per la salute globale. Il vero o falso di questa settimana parla di glaucoma. E per concludere, le news scelte per voi dalla redazione. Le emozioni della maternità non sono sempre rosa. Circa 100.000 donne l'anno, nei primi tre mesi della nascita dei figli, soffrono infatti di depressione postpartum. Ma solo la metà chiede aiuto e sostegno. Per accendere i riflettori sulle diverse emozioni delle neomamme e sostenere le donne e le famiglie che ne hanno bisogno, l'associazione Kairos Donna ha dato vita al primo festival della maternità, in calendario a Padova dal 13 al 15 aprile. In un momento come questo riteniamo che vada focalizzata l'attenzione su tutti gli aspetti che riguardano appunto la crescita e la maternità. Ci saranno tante manifestazioni di informazione, elementi con gli esperti in cui si parlerà di questo, ma anche momenti in cui le famiglie, le mamme, i bambini, i genitori, i nonni possono venire e condividere con noi dei laboratori e delle esperienze sulle emozioni. Perché la cosa più importante che vogliamo dire è che le emozioni sono la guida e non bisogna sentirsi in colpa se a volte si provano sentimenti ambivalenti o di rabbia o di sensi di colpa e nel percorso della maternità c'è anche questo. Il disagio delle neomamme è fenomeno conosciuto, ma spesso, nel concreto, le donne restano sole con la loro sofferenza e sono pochi i punti di riferimento sul territorio. Il nostro paese garantisce una splendida assistenza durante la gravidanza e dovrebbe garantirla anche nel puerperio. Purtroppo i livelli che noi abbiamo raggiunto prima della nascita non sono gli stessi dopo. Dobbiamo continuare a investire perché quello è un momento determinante per la salute della mamma, della coppia e del bambino. Scegliere una terapia come un vestito tagliato su misura per ciascun paziente in base alla carta d'identità genetica del suo tumore è la promessa della medicina personalizzata, ma perché si realizzi agli oncologi serve una mappa dei punti deboli della malattia e una bussola che permetta di orientarsi verso le armi mirate in grado di colperli. Si chiama profilazione genomica, una strada che si consolida con l'avvento del digitale e dei big data in oncologia. Lo scenario sta completamente cambiando. Ci sono sempre più piattaforme in grado di determinare, di mappare, di identificare tutte le alterazioni genetiche e molecolari di questi tipi tumorali. Una di queste è Foundation One che arriva a identificare oltre 300 mutazioni. Questo innegabilmente allarga il panorama di possibili trattamenti personalizzati in tutti i nostri pazienti con patologia oncologica. Foundation One è stato acquisito da Roche nel 2015 ed è già stato reso disponibile nell'ambito di progetti di ricerca che stiamo conducendo in collaborazione con le società scientifiche italiane, tra cui la società italiana di medicina di precisione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità che sta per avviare un progetto di ricerca in cui tutti i pazienti con tumore avanzato potranno essere analizzati, il tumor di questi pazienti verrà analizzato col sistema di Foundation Medicine e i pazienti potranno ricevere il trattamento target più indicato per la specifica malattia di cui sono affetti. Del futuro aperto dalla profilazione genomica si è parlato a Milano in occasione del Wired Health, innovazione per la vita, evento dedicato alle tecnologie per la salute. Adesso è già realtà e già anche utilizzato nella pratica clinica ma naturalmente appena iniziato questo avrà uno sviluppo enorme, la cosiddetta studio della biopsia liquida. I due obiettivi principali per noi sono quelli di verificare in questo modo lo sviluppo di resistenza ai farmaci e soprattutto la cosiddetta recidiva molecolare, cioè essere capaci di identificare la ricomparsa della malattia prima che questa diventi clinicamente evidente perché se noi riusciamo a curare una malattia quando ancora è solo DNA nel sangue ovviamente abbiamo molto più possibilità di curarla adeguatamente. Lo scorso anno in Italia sono stati operati alla cataratta 557.000 pazienti, l'intervento più eseguito nel nostro paese e nel mondo. Oggi è possibile dire addio alla cataratta con un solo intervento all'avanguardia, in grado di offrire nuove prospettive di recupero dei difetti rifrattivi, miopia, ipermetropia, stigmatismo e presbiopia. In persone colpite da una cataratta incipiente o addirittura assente. Il punto sulle grandi opportunità della tecnologia con lenti multifocali è stato al centro del convegno promosso dall'ospedale San Carlo di Menzi di Roma, la cui unità complessa di oculistica si avvale delle soluzioni più innovative per la chirurgia della cataratta, i cristalli artificiali multifocali premium. Le nuove tecnologie che consistono nell'uso di cristallini artificiali appunto ad elevata tecnologia o plurifocali o multifocali, che dir si voglia, e il laser a femtosecondi hanno reso l'intervento di cataratta più performante grazie all'uso proprio di queste tecnologie. Che vuol dire più performante? Che dopo l'intervento di cataratta è possibile non usare più gli occhiali in molte delle condizioni di vita dei pazienti che subiscono l'intervento e quindi essere più liberi nella vita di tutti i giorni dall'uso di uno strumento per vedere. Malnutrizione, anoressia, perdita di appetito e di peso sono disturbi comuni nei pazienti con cancro sin dalle prime fasi di malattia, rilevabili già alla prima visita oncologica. A fotografare per la prima volta lo status nutrizionale di quasi 2000 pazienti italiani in occasione della prima visita oncologica in 22 unità di oncologia nazionale è lo studio premio dell'Università Sapienza di Roma, che ha valutato la prevalenza della malnutrizione in oncologia. Prima di iniziare la chemio o la radioterapia, circa il 64% dei pazienti ha già perso peso quando si presenta per la prima volta all'oncologo. Ci sono alcuni tumori dove la perdita di peso è molto importante, addirittura può essere un primo sintomo di malattia oncologica e altri tumori nei quali invece la perdita di peso è meno frequente. In particolare sono alcune neoplasie che fanno questo brutto scherzo ai pazienti e sono le neoplasie del polmone, ad esempio, le neoplasie del tratto gastroenterico, quindi neoplasie dello stomaco, dell'esofago e soprattutto del pancreas. Probabilmente la malattia oncologica del pancreas è quella che con più frequenza si associa alla presenza di perdita di appetito e anche di calo ponderale che può precedere di diversi mesi la diagnosi della malattia. Ma quindi perdere peso senza un motivo evidente è sempre dovuto alla presenza di un tumore? Tutte le perdite di peso che si verificano in maniera involontaria necessitano attenzione, ma non tutte le perdite di peso involontarie sono per forza legate ad una malattia oncologica. Le perdite di peso possono essere minime, possono rientrare anche nella normale fluttuazione del peso legata alla ritenzione di liquidi, quindi non bisogna generalizzare. La malattia oncologica, a causa di una serie di meccanismi che vengono alterati dalla presenza del tumore nell'organismo del paziente, può portare ad una perdita di peso che spesso è legata alla riduzione dell'assunzione di cibo, cioè si tende a mangiare meno a causa di un sintomo che noi chiamiamo anoressia, che significa perdita dell'appetito o ridotta volontà di alimentarsi, che non va confusa con l'anoressia psichica, che invece è una malattia psichiatrica in cui le persone l'appetito ce l'hanno ma cercano invece di sopprimerlo. Qui effettivamente molte forme oncologiche sono associate alla comparsa di sintomi che interferiscono con la normale alimentazione, quella che appunto chiamiamo anoressia. Le risposte alle priorità globali della salute pubblica, la gestione sostenibile della cronicità e le nuove frontiere aperte dall'uso dei big data. Se ne è parlato in occasione di Inventing for Life Health Summit, l'appuntamento organizzato a Roma da MSD Italia che ha coinvolto i maggiori esperti del campo della sanità e delle istituzioni. Al centro ci deve essere il paziente, ci deve essere il cittadino, ci deve essere la persona. Al centro c'è sicuramente l'invecchiamento sano e attivo di una popolazione e quindi la gestione della cronicità, la gestione della sostenibilità, la gestione anche di tutto quello che è innovazione tecnologica che deve comunque poter costituire un asset vincente e non un problema per quello che è il nostro straordinario sistema sanitario. Il Summit è stato un'occasione per discutere i dati emersi da un'indagine condotta da Istituto Piepoli, dalla quale emerge, tra le altre cose, come un italiano su due non sappia cosa sia l'antibiotico resistenza, una vera e propria emergenza che l'OMS stima potrebbe essere la prima causa di morte entro il 2050. È la vera sfida globale, la prima causa di morte, uno degli aspetti più importanti è la capacità di creare una rete di informazione, ovviamente attraverso anche una sensibilizzazione per obiettivi sull'uso degli antibiotici. Penso al rapporto tra le direzioni di prevenzione regionali e i medici di medicina generale e poi tutta la parte legata alla prevenzione delle infezioni ospedaliere e in terza battuta anche il tema di igiene pubblica. Dall'indagine emerge anche come gli italiani sottovalutino l'impatto della prevenzione vaccinale, nonostante il ritorno in Italia e in Europa di malattie che sembravano debellate. Oltre a inventare, oltre a sviluppare farmaci dobbiamo comunicare, comunicare non è più informare, comunicare vuol dire stabilire un rapporto empatico con le persone, significa non solo comunicare dati convincenti ma comunicarli in maniera convincente con un linguaggio che sia adeguato ai nuovi mezzi di comunicazione come tutti quelli che troviamo su internet, non possiamo rimanere indietro. Gli italiani inoltre riconoscono poco il valore di un accesso tempestivo ai farmaci innovativi, ma l'opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare l'importanza dei farmaci anticancro. Adesso bisogna capire anche il motivo delle malattie e questo è soltanto attraverso un rapporto trasparente con la ricerca pubblica che è quella che spesso scopre le cause delle malattie con l'industria farmaceutica che poi magari sviluppa il farmaco. Poi c'è un problema di prezzi sicuramente, quindi bisognerà un minimo capire fino a che punto possiamo andare con i prezzi e in che modo possiamo sederci e capire quali potrebbero essere i meccanismi del futuro per decidere dei prezzi equi che permettono l'accesso a tutte le novità a tutti quanti. E' vero che sono pochi gli italiani che soffrono di glaucoma? No, questo non è vero. Anche in Italia la malattia è presente e anche in Italia la malattia è sottostimata, ossia ci sono persone che non sono al corrente e non sanno di soffrire di questa malattia. E' vero che il glaucoma colpisce di più gli uomini? Ma è una malattia che colpisce ugual misura entrambi i sessi. In alcune etnie è più frequente nel sesso femminile rispetto al sesso maschile, però entrambi i sessi ne sono colpiti. E' vero che il glaucoma è una malattia genetica? Sono molti gli studi genetici in atto attualmente, sono stati individuati dei geni maggiormente espressi nei soggetti glaucomatosi, quindi c'è una predisposizione genetica della malattia, ma questo è ancora oggetto di studio. E' vero che il glaucoma può essere prevenuto? Il glaucoma può essere, direi, curato se viene diagnosticato, soprattutto nelle fasi iniziali, quindi è molto importante che venga effettuata una diagnosi precoce della malattia. Il glaucoma porta inevitabilmente alla cecità? No, non porta inevitabilmente alla cecità. Il glaucoma è una malattia che può evolvere in maniera molto lenta e graduale e soprattutto che risponde alle trattamenti che vengono messi in atto, quindi non in tutti i casi assolutamente si arriva alla cecità. E' vero che c'è poca consapevolezza sul glaucoma? Direi di sì. Capita spesso di riscontrare in ospedale pazienti che arrivano con la malattia in una fase già molto avanzata. Questo è il segno che molte persone trascurano l'importanza di eseguire un controllo precoce per individuare questa malattia. E' vero che si può guarire dal glaucoma? Ma il glaucoma è una malattia cronica. Ci sono delle forme di glaucoma che si arrestano, si limitano. In generale è una malattia progressiva. È una malattia però che in molti pazienti risponde alla terapia. Per questo è importante, lo ribadisco, la diagnosi precoce e l'inizio di una terapia specifica indicata dal medico pulista. Il Ministero della Salute precisa che il termine del 10 marzo vale per tutte le regioni, anche per quelle che hanno aderito alla procedura semplificata. Così il Ministero della Salute ribadisce che non ci sarà nessuna proroga per le vaccinazioni obbligatorie per l'ingresso a scuola. È quindi vietato l'accesso ad asili nido e scuola dell'infanzia fino a quando il minore non avrà regolarizzato la propria posizione vaccinale, mentre per i ragazzi della scuola dell'obbligo, dai 6 ai 16 anni, scatta la procedura che può portare a una sanzione da 100 a 500 euro. 25 borse di studio per formare medici esperti di sanità sostenibile. Con questo obiettivo all'interno del programma Jimbe4Young, la Fondazione Jimbe ha lanciato un bando nazionale che consentirà a 25 specializzanti in igiene e medicina preventiva di partecipare alla prima edizione del corso avanzato Metodi e Strumenti di Clinical Governance per la Sostenibilità dell'SSN, che si terrà a Bologna da giugno 2018 a gennaio 2019. Ingrossamento della prostata con 3 milioni di italiani colpiti, disfunzione rettile con altri 3 milioni, e euculazione precoce 4 milioni, calcolosi 2 milioni, tumori 1,2 milioni, malattie infettive e infiammatorie 1 milione. Sono circa 13 milioni in Italia gli uomini con problemi di salute maschili, il cui totale è mitigato solo dal fatto che alcune di queste patologie sono concomitanti e fanno abbassare il numero a 10 milioni. Al convegno Prevenzione Alfa è stata lanciata la prima campagna nazionale per la salute maschile, promossa dalla Società Italiana di Urologia in collaborazione con il Ministero della Salute. Obiettivo? Far arrivare a tutti i maschi dai 16 anni in su il messaggio La prevenzione è fondamentale in tutte le fasi della vita dell'uomo. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.